Amici di Polifemo, buonasera, ci siamo, vale il solito adagio, non è venerdì se non c'è Polifemo e oggi celebriamo la nostra trasmissione qui da Carosino con la cinquantesima Sagra del Vino. Beh, è un evento ormai tipico di questa collettività, di questa città e non solo. Cercheremo di ripercorrere alcune delle tappe principali di queste giornate dedicate alla Sagra. Ci sarà ovviamente il momento topico, il momento clou, quello dell'accensione della fontana e poi ovviamente anche tutto il momento, come dire, ludico attraverso la musica, attraverso la partecipazione popolare, l'aggregazione popolare e sociale, ma anche dei momenti di approfondimento attraverso appunto i convegni tematici dedicati alle problematiche del settore viti-vinicolo. È una manifestazione voluta dall'amministrazione comunale insieme con la Proloco di Carosino.